Sarà attivo anche al Comune di Gela il baratto amministrativo, lo ha annunciato l'assessore al bilancio Fabrizio Morello. Si tratta di uno strumento introdotto dal decreto Sblocca Italia che consente ai cittadini in difficoltà economica di poter saldare i propri debiti con il fisco mettendosi a disposizione del Comune per eseguire lavori socialmente utili. Sono diversi i Comuni in Italia che stanno attivando le procedure per l'avvio del baratto amministrativo e tra questi anche il Comune di Gela. Gli interventi e quali i cittadini che dimostreranno di avere requisiti potranno prestare la loro opera possono riguardare la manutenzione, la pulizia, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade o comunque interventi di decoro urbano con finalità di interesse generale e la valorizzazione di limitate zone del territorio. Ne abbiamo parlato con l'assessore a ramo Fabrizio Morello. Si tratta praticamente di una possibilità che daremo a tutti i cittadini gelesi di poter far fronte laddove ci sono situazioni oggettive di difficoltà economiche e laddove concretamente si dimostri di essere nelle condizioni di poter pagare un tributo dovuto a questo ente comunale quindi la possibilità in cambio di un servizio che questi stessi renderanno alla collettività che può essere dalla piccola manutenzione alla pulizia di spazi e verdi pubblici la possibilità di, perdonatemi il termine, barattare ma così la chiama la legge questa disponibilità con il non pagare il tributo stesso. Da quando potrebbe essere attivo questo servizio, questa nuova opportunità per i meno abbienti? Dal 2016. Come vi organizzerete in tal senso? Saranno individuati intanto i servizi e poi i soggetti che potranno soffrire di questa facilitazione? Individeremo sia i singoli progetti di riqualificazione di aria e di verde pubblico e poi contestualmente verificheremo di fare degli appositi elenchi a cui si parteciperà con una domanda e da lì iniziare praticamente a mettere assieme progetti e disponibilità da parte di quanti vogliono partecipare. Assessore, che tipo di inquadramento sarà? Saranno dei lavoratori, dei volontari? Come saranno collocati questi soggetti? Assolutamente, non c'è alcun rapporto di lavoro in questo senso. La norma è precisa e chiara. Si tratta di una mera disponibilità a dare dei servizi e quindi un contributo alla propria collettività in cambio di questa disponibilità e di questo contributo libero e volontario si ottengono quelli che sono i cosiddetti sgravi tributari.